Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Carissimi bambini, ben ritrovati per questo nuovo incontro di Catechismo nella Settimana Santa. Cominciamo con la preghiera del Ti adoro. Ti adoro, mio Dio, e Ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la Tua santa volontà e per la maggior Tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La Tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Diciamo anche un'Ave Maria per il nostro Santo Padre Benedetto, il Papa, per le nostre famiglie, i nostri cari e per tutti quelli che soffrono. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Anche all'angelo custode, perché ci aiuti a partecipare bene a questo incontro di catechismo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, carissimi bambini, avete già visto che il titolo di questo incontro di catechismo è il Triduo Pasquale. Intanto la parola Triduo vuole dire periodo di tre giorni. Infatti ho elencato qui Giovedì Santo, Venerdì Santo e Sabato Santo. Questo è il Triduo Pasquale, i tre giorni che precedono la Pasqua. Questa che noi viviamo è la Settimana Santa. Settimana Santa, perché in questa settimana Gesù ci ha salvati, soffrendo e morendo sulla croce. Che cosa si ricorda, bambini, in questi tre giorni, Giovedì prossimo, no? Giovedì prossimo, venerdì e anche sabato. Cosa ricordiamo? Cosa ricorda la Chiesa? Il Giovedì Santo la Chiesa ricorda l'ultima cena. Che Gesù nel Giovedì prima di morire, nel Giovedì prima di morire, ha fatto una cena con gli Apostoli. Se vedete in questo dipinto, gli Apostoli erano dodici. Sei da questa parte e sei dall'altra. I dodici Apostoli di Gesù. Gesù li ha radunati per una cena. E questa è una cena speciale. Guardate che non tutti hanno l'aureola, l'aureola sul capo, no? Questa è l'aureola. Ce l'hanno quasi tutti, meno uno, questo. Perché questo è Giuda. Vedete che tutti gli altri sono assorti, sono attratti da ciò che fa il Signore, da ciò che dice il Signore. Questo invece sembra prendere le distanze. Gesù ha detto in questa cena, ha detto, uno di voi mi tradirà. E allora tutti si chiedevano, sono forse io maestro? Lo chiedevano a lui. Colui che mette la mano nel piatto con me è quello che mi tradirà. In quel momento Giuda stava proprio mettendo la mano nel piatto. Adesso questa scena non lo fa vedere, ma era così. Giuda aveva già in mente di tradire Gesù. In quella cena però, ecco il dipinto parla di questo, Gesù inventa, istituisce, la Santa Messa. Cioè prende un pane e dice, questo è il mio corpo spezzato per voi. Prende un calice e dice, questo è il calice del mio sangue versato per voi. E aggiunge, fate questo, farete questo in memoria di me. Da quella sera nasce la Santa Messa. Che celebra il suo corpo spezzato, cioè trafitto, e il suo sangue versato sulla croce. Questo è il giovedì. Giovedì dopo la cena Gesù si ritira nell'orto degli ulivi. Gesù prega nell'orto degli ulivi. Ci sono anche altri tre apostoli che lui ha chiesto alla loro compagnia, no? Pietro, Giacomo e Giovanni. Ma sono qui, nella penombra, che si sono addormentati. Mentre Gesù è solo in preghiera. La sua anima è triste. Perché vede avvicinarsi la sua morte. Gesù sa in precedenza tutto quello che gli accadrà. Perciò è angosciato. E' angosciato perché sta dando la sua vita per salvare l'umanità intera. E nella preghiera dice, padre, si rivolge al padre, dice Se è possibile passi da me questa prova, questo calice. Calice vuol dire sorte, destino. Ma sia fatta la tua volontà. Ecco, padre, sia fatta la tua volontà. Anche se è tanto difficile per me. E mentre Gesù prega, un angelo viene a consolarlo. Mentre è nell'orto dell'ulivi, arrivano le guardie e lo arrestano. Come fanno ad arrestarlo? E' semplice. Giuda, eccolo qua, dà un segnale alle guardie. E dice, quello che bacerò è lui, prendetelo. Lo capite adesso il tradimento? Con un bacio Giuda tradisce il suo amico, il suo maestro, Gesù. E allora le guardie si avventano su di lui. I discepoli che erano con lui, Pietro, Giacomo e Giovanni scappano. Gesù viene lasciato completamente solo. Questo sembra Giovanni. Pietro tenta di difenderlo colpendo all'orecchio questo personaggio che era venuto per prendere Gesù. Ma Gesù gli dice, lascia, metti via la spada. L'Evangelista Luca dice che Gesù in quel momento guarì l'orecchio di questo personaggio. Pensate quanto amore Gesù. E non era certamente vendicativo come siamo noi. E dove lo portano? Lo portano davanti al sommo sacerdote, cioè all'autorità più grande tra i sacerdoti di Israele, il capo religioso del popolo ebraico. E cercano un'accusa per condannarlo a morte. E qualcuno dei testimoni dice, io l'ho sentito che diceva di essere figlio di Dio. Ah, avete sentito, dice il sommo sacerdote, la bestemmia. Ecco, il reo è colpevole di morte. Deve essere condannato a morte. E si straccia le vesti come segno che è di aver ascoltato un abominio. Qualcuno lo schiaffeggia e lo insulta. Uscito dal palazzo del sommo sacerdote, scortato dalle guardie, Gesù vede, e questo Gesù vede Pietro, che sta dialogando con delle serve del sommo sacerdote. C'è anche altra gente lì fuori che si stanno scaldando al fuoco. Che cosa aveva fatto Pietro mentre Gesù era dentro al palazzo del sommo sacerdote? Pietro era stato fermato da queste donne e anche da altre persone che gli avevano detto, ah, tu sei uno degli amici di Gesù. E Pietro aveva rinnegato, aveva negato per tre volte, dicendo io non conosco quell'uomo. Pensate, neanche lo chiama per nome. Non conosco, non lo conosco, non ho niente a che fare con lui. Pensate a cosa era arrivato Pietro per paura di essere arrestato anche lui. a rinnegare il suo maestro, in un momento così difficile, così triste. E in quel momento un gallo canta. Questo gallo canta. Pietro si ricorda che Gesù gli aveva detto prima che il gallo canti due volte, tu mi avrai rinnegato per tre volte. Ecco, nel momento stesso Gesù lo guarda. Pietro è afflitto dal dolore, capisce la colpa terribile che ha commesso. Ha rinnegato Gesù. E dove lo portano? Adesso dove lo portano? Lo portano in un luogo dove lo torturano, lo deridono. Gli mettono intanto addosso questo mantello rosso, come si fa? Come è un mantello dei re. Infatti, Gesù viene condannato anche perché si è proclamato re di Israele. Ricordate l'ingresso in Gerusalemme. Chi era? Un ingresso da re. Quindi l'avevano coperto con un mantello rosso. Gli avevano conficcato sulla testa una corona fatta con delle spine e poi gli avevano messo, qui non si vede, uno scettro, una canna, insomma. A mo' di scettro, come fanno, come hanno i re, nelle mani. E questi, queste persone, questi soldati lo deridevano, gli conficcavano ancora di più le spine nella testa, lo prendevano in giro, ecco. E Gesù non poteva difendersi perché era legato e doveva subire tutti questi maltrattamenti. Ecco che Gesù viene portato davanti al governatore dei Romani. Voi sapete che i Romani comandavano in Palestina e questo governatore di nome Pilato era il rappresentante di Cesare, dell'imperatore. Allora Pilato rimette la decisione alla folla, alla gente, e chiede «E questo il vostro re? Guardate come viene il riso ancora con il mantello rosso, la canna nelle mani, la corona di spine». E la gente dice «Crocifiggilo, crocifiggilo». Naturalmente le persone erano aizzate dalle autorità religiose, dai sommi sacerdoti. E Pilato tenta di difenderlo. Siccome c'era questa usanza che per Pasqua rilasciava sempre un malfattore carcerato, illustre, famoso, e in quel momento c'era Barabba in carcere, e disse Pilato «Volete libero Barabba o Gesù il vostro re?». E la gente dice «Vogliamo libero Barabba». Barabba era un delinquente, era un assassino. «Che cosa farò al vostro re allora?». Ed essi dicono «Crocifiggilo, crocifiggilo». Allora Pilato non lo fa crocifiggere subito, ma per accontentare la gente lo fa flagellare. Ecco la flagellazione, una terribile tortura. Gesù ha ricevuto tantissimi colpi di flagello. Il flagello erano delle corde alle cui estremità c'erano degli uncini di metallo, i quali penetravano nella carne e la strappavano via. Pensate, che terribile tortura. Gesù era grondante di sangue, ma anche di tantissime ferite. Un dolore, una sofferenza che una persona normale certamente non avrebbe potuto sopportare. Ed ecco che Gesù porta la croce, perché la gente è insaziabile e continua a ripetere «Crocifiggilo, crocifiggilo». Pilato si trova in difficoltà, ha paura di perdere la carica. Il parere, l'opinione pubblica è molto importante, purtroppo, dal punto di vista politico. E lo fa crocifiggere. Quindi gli mettono sulle spalle una croce e Gesù si incammina sul Calvario. Il Calvario era un'altura non molto alta, nella quale uccidevano appunto per crocifissione i malfattori. Ma nel cammino sul Calvario Gesù cade tre volte. Naturalmente le guardie sempre lo costringevano a rialzarsi e a portare la croce. Gesù viene inchiodato sulla croce. Le sue mani e i suoi piedi vengono trafitti dai chiodi. Pensate quale dolore indescrivibile può essere stato. Gesù ha fatto tutto questo per noi, non si è lamentato e ha pregato per i suoi carnefici. Ecco, Gesù muore sulla croce. Gesù muore alle tre del pomeriggio. E di fianco lui ci sono altri due malfattori, uno a destra e uno a sinistra. Gesù solo è innocente, completamente innocente, non ha fatto nulla di male. Sulla croce c'è il cartello che porta il motivo della condanna. Gesù Nazareno, re dei giudei. Che significa ha voluto farsi re dei giudei. Qui sotto la croce abbiamo due piedonne, questa e questa, che piangono. Piedonne vuol dire donne devote, donne che hanno voluto bene a Gesù, lo hanno seguito, lo hanno servito nella sua vita pubblica. Qui c'è l'apostolo Giovanni che nel frattempo era, prima era scappato nell'orto degli olivi e poi ecco che lo ha di nuovo seguito. L'unico apostolo che rimane sotto la croce e sostiene Maria, che è questa figura che non si vede, è di spalle, la mamma di Gesù. pensate che dolore terribile, la Madonna ha dovuto sopportare. Però non si è mai persa d'animo, l'unica a credere sempre nella resurrezione di Cristo. Intorno ci sono persone che guardano. Alcuni dicono era veramente un grande, altri dicono era un malfattore, lo prendono in giro ancora, mentre sta morendo, è morto. Viene calato dalla croce e Maria lo tiene tra le braccia morto. Guardate la scena, Gesù è deposto dalla croce. Tra le braccia di Maria queste sono le pie donne, questo anziano è Giuseppe di Arimatea. questo personaggio, che era un personaggio nobile, era discepolo di Gesù di nascosto, per paura dei giudei, e sarà proprio questo che offrirà a Gesù la sua tomba nuova, e dice, lo seppelirete nella mia tomba che ho appena fatto costruire. Pensate le lacrime di Maria. Ecco che Gesù viene deposto nel sepolcro, in una tomba nuova, scavata nella roccia. Il venerdì, ecco, tutto questo succede il venerdì, il venerdì santo, ricorderemo questo, fino alla sepoltura, ecco. Viene sepolto il venerdì pomeriggio, venerdì sera. E il sabato santo, ricordiamo che Gesù resta nel sepolcro. Una grossa pietra chiuse l'ingresso del sepolcro. Vedete questa pietra, rotonda in modo che si possa rotolare e chiude. l'ingresso del sepolcro. La settimana santa si conclude così. Poi domenica prossima sarà la Pasqua, dove ricorderemo la risurrezione del Signore. Ma, carissimi bambini, cerchiamo di capire quanto amore dobbiamo avere per Gesù. Ecco, non tradirlo con il peccato. Gesù non merita questo. Cerchiamo di vivere bene questa settimana pregando ogni giorno, al mattino, alla sera, e anche insieme ai nostri genitori, quando loro ce lo indicano. Cerchiamo di essere obbedienti a loro e di essere buoni, buoni con tutti. E seguire, quindi, l'esempio di Gesù, che non si è mai arrabbiato, neanche quando è stato colpito, così duramente come abbiamo visto. Ecco, facciamo un segno di croce e ci vediamo, ci ritroviamo la settimana di Pasqua. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.